un'altra la 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 oggi vi porto un nuovo video tutorial sulle modpacks la EPSIT una vecchia modpack della 1.12.2 se non è vero iniziamo subito col dire che ci servirà il launcher il launcher lo troveremo qui su queste pagine che vi lascerò qui sotto il video nella descrizione in link e facciamo download facciamo download e parte io le annullo perchè è già scattato e facciamo pure chiudere le le prendiamo e le mettiamo sul desktop lo apriamo e dopo qui facciamo esegni aspettiamo che parte poi il launcher ok e il launcher è già scattato il nuovo messer premio di niente vi chiederà di dentro il vostro user e li mettete poi al cosciutto scegliete i vostri modpack che volete cliccate sulla EXIT cliccate la portale se la trovi EXIT e inizierà il download come fate play in questo punto 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 quindi se la posta non preoccupate lasciamoli aspettiamo in più parte ma adesso sicuramente la via rama non ci fanno in questo punto intanto voglio ringraziare di 50 risconti fatti stamattina con le 7.419 circa e sono contento di 10 milioni con le 2 altri se volete continui per fare delle serie in blu sotto in un'inizio parco appena partito la versione 15 di mezzo il sito il 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 ora ci metto un po' a partire perché è un po' l'unico ed ecco qua come vedete siamo sull'exit c'è la zucca e ecco per questo bravo tutorial è tutto mettete mi piace commentate iscrivetevi condividete su facebook ai vostri amici iscrivetevi condividete